Il comune di Ponte Cagnano-Faiano è stato selezionato fra gli enti che effettueranno il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. L'iniziativa, che permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche delle persone dimoranti abitualmente in Italia, verrà organizzata annualmente dall'Istat al fine di raccogliere informazioni continue e tempestive sugli abitanti della nazione. Le nuove modalità di reperimento dati che vedono Ponte Cagnano-Faiano fra i 2800 comuni scelti sui quasi 8000 esistenti in tutto il paese consentono rispetto al metodo tradizionale che prevedeva una procedura attivata ogni 10 anni un significativo contenimento dei costi della rilevazione ed una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.